L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore. Agropoli dall'11 al 13 giugno 2021 ospiterà la finale B dei campionati di società assoluti. Ancora una volta, grazie alla capacità organizzativa dell'Atletica Agropoli e dal continuo supporto dell'amministrazione comunale, Agropoli sarà nuovamente al centro dei riflettori nazionali, avendo onori e oneri di ospitare una delle manifestazioni più suggestive del panorama sportivo italiano. Infatti, 24 società italiane dopo le fasi di qualificazioni regionali si sfideranno sulla pista Pietro Mennea, schierando i loro migliori atleti su tutte le 20 discipline, al fine di contendersi l'ambito titolo di Serie B. La verità è che non ci siamo mai fermati, esordisce Angelo Palmieri, presidente dell'Atletica Agropoli. Abbiamo continuato a lavorare sotto traccia per riportare la grande atletica nel Cilento. Dopo i campionati italiani junior e promesse e gli italiani allievi, la pista Pietro Mennea è pronta a far vivere nuove emozioni. In questo sport le emozioni la fanno da protagonista, stiamo crescendo sia sotto l'aspetto sportivo, con il secondo posto delle ragazze nella classifica delle prove multiple nazionali, che è organizzativo e questa assegnazione lo dimostra. Prosegue inoltre, gonfie vele, il connubio sport-turismo, con un evento che metterà ancora una volta Agropoli e il Cilento sotto i riflettori dei media nazionali. Nei prossimi giorni la macchina organizzativa si metterà in moto, prosegue il presidente Palmieri, per garantire ad atleti, tecnici ed accompagnatori il massimo dell'ospitalità e per lasciare un ottimo ricordo sia della città che dell'organizzazione.